Ora delle vogliettrarie è facciata! Sì, 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 sì! Allora è tutto vero, ciò che dice l'agente. Che avete? Siete strano. Mi hai avvelenato. Non posso guardarvi. Leggo odio nei vostri occhi. Mi hai deluso. Avrei dovuto capirlo sin dal principio che eri una dollaccia. Che intendete dire? Io non ho mai fatto nulla la domanda. Bucciarda, oggi ti ho fatto seguire dai miei uomini. So dove sei andata. So tutto. No. Confessai un uomo. È vero, però oggi un uomo sono voi. Scontri. Amoroso. Presente. Gianlu. Gianlu. Presente. Sostanzio. Presente. Di Dio. Come so, me lo fate fare con un bambino da vostra figlia Malena? Come so, ce la posso impelare la minchia in mezzo di mezzo? Come so, io me la posso impolare? Una roba.